come stai, come stai, spero tu, signora Prieto, stia bene se sei nuovo o nuova qui, mi presento, sono Chechie allora, cosa andrò a fare in questo video? penso che si sia capito già dal titolo, solo che aggiungerò qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo, qualcosa di più delicato, ok, è degli hand movements, degli hand movements, iniziamo subito um, 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 um um, um no Sì, sì. 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 Sì . Ora facciamo un pochino di tono suoni con la lingua suoni con la lingua suoni con la lingua Sto lasciando tutto il rossetto Perché ogni tanto sbatto sul microfono E lascio il rossetto La tinta in realtà Ok Ora facciamo Tipo shakerando Muovendola così Vediamo Niente male Questo è Mantenendola un po' più Un po' più chiusa Ma preferisco Così Anziché Questo forse è un po' troppo caotico Perdonatemi le facce strane Ma lo faccio per i trigger Per un attimo di apprezzamento a tutta noi ASMR artist o ASMR artist ragazzi maschi che per fare questi maledetti mount sounds dobbiamo stare in apnea perché sennò si sentirebbe proprio il respiro forte, le respirate forti dritte sul microfono quindi anche perché voi non lo vedete ma in realtà ci sono tanti tagli che ogni tanto capita che magari non si riesce a stare in apnea e quindi di conseguenza si devono fare i tagli non so come mettermi ok passiamo a qualcos'altro questo non so se considerarlo un vero e proprio mount sounds però è il teeth tapping il tapping sui denti quindi personalmente preferisco la nickel tapping questo strisciare il dito ora facciamo vari tipi di bacetti che so che sono i vostri preferiti ma sono io la prima a farmi di piacere tanto mi piacciono tanto sono tanto rilassanti e la cosa è che ogni bacio è diverso non è vero senza la parola nel senso ogni case sound da smr artist è completamente diverso sarà la formazione delle labbra non so ma è super super diverso non so ok Grazie. 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 Di visual love. ciao bellissimo quando si associano i mamsa, non sai che sia bellissimo e devo dire la verità mi piace questa inquadratura, diversa dal solito e gli end moments si possono vivere a pieno perchè si vede pure il movimento del broccio ammetto che non è un up close appunto questo tipo di video, è tutto il contrario però penso che l'efficienza degli end moments c'è comunque, ovvero che rilassano lo stesso non saprei, potremmo sapere voi magari sotto nei commenti facciamo un breve countdown sino ad augurarvi la buonanotte da 10 sino a 0 10 9 8 7 8 10 11 12 12 13 12 14 15 due uno e zero 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 adesso vi auguro una buonanotte 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 qualsiasi cosa e ci vediamo presto nel prossimo video ciao 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 byebye byebye buonanotte Grazie.